Siamo con la direttore generale dello Stato e Franco Motto. Allora, una puntata molto piccante, dove tu hai fatto le domande giuste per le risposte giuste e quindi, come sempre, diciamo una puntata al top, come le fai tu, come le fa Peppe, come le fa Capri. Allora, faccio il mio augurio a tutto lo staff dell'Ostasia, a tutta la cittadinanza stasiana, ai tifosi Filippo e ai vari amici che tu conosci molto bene, che ci seguono da tutte le parti e tutto. Faccio l'augurio ai miei calciatori e gli dico che gli voglio bene.